E bella a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale Quest'oggi siamo di nuovo su Ayrston E' Ayrston secondo episodio E andiamo subito a fare una bella partitella Dobbiamo vincere perchè ci dobbiamo vendicare Nel primo episodio abbiamo fatto caccare Caccare Cioè abbiamo perso tutte e due Uno perchè aveva pagato non so il mazzo tutte le carte Aveva pagato i murloc E la seconda abbiamo avuto sfortuna Sì sì abbiamo avuto sfortuna Allora siamo contro Anduin Che è me Che è che sono forti però Mi serve un qualcosa Non so sotto all'uno No No perchè ste due E vabbè grazie Mi vuole già far perdere Ah bravo eh Che fino A pezzo che stronzo Io ti metto un track No Che poi è troppo schicciatura Schicciatura Che poi è troppo schicciatura No A pezzo di stronzo Ok sto qua me lo uccideranno Penso perchè C'è solo uno Sì infatti Anche se aveva due Comunque me l'avrebbe ucciso Quindi vabbè Ok possiamo già mettere Questo scimmione schifoso Che fa pure caccare Caccare Però vabbè Può essere il bestaglio di magia Potere robo E' pure forte Non saprei Vabbè mettiamo questo Ehm vabbè Ok allora abbiamo questa carta Però non posso ucciderlo Questo Questo servitore Abbiamo questo Questo Sta qua però Sulla 7 Oh sti è duro Sti qua Oh sti rigenera Due di salute Oh gliel'ha messo Cogliore Si è dimenticato Ok potremmo Mettere A lui Io lo attacco Ok Poi gli diamo il potere eroe E attacchiamo Tanto per toglierli Solo un punto Vediamo un po' Che cosa è in mente Ecco Ah vabbè Ma finchè all'eroe Va bene Va bene lo stesso Quando invece E' a lui Che me lo distrugge Sei proprio Un pezzo di merda Oh Ragazzi Anzi No Non lo sprechiamo No non voglio sprecare Questa carta qua Solo per Dargli un punto in più Ma chi se ne frega Dai va bene Se mai perdo Oh dopo mettiamo Questa carta qua Campioni di rocca vinto Oh Stic Una carta leggendaria C'è Porco due Ragazzi Lo devo ammazzare Tac E uno E Ciao bello Ciao carta leggendaria Mi fai una pippa Oh Oh Boom bitch Mino 11 di danni E già arriva a 11 Ragazzi Vabbè 13 perché è sicura Dai cosa vuoi fare Bello che si Te vuoi sfidare Bakus Questa è la sua vendetta E Vabbè ragazzi Ho Praticamente L'int Guardate L'int Ragazzi E si arrende I miei saluti Ragazzi Vinciamo Oh livello pure 22 Benissimo Raga Mamma mia Che partita Proprio stracciato Questa volta Vedete ragazzi Nel primo video Che avevo fatto Ho avuto sfortuna A incontrare Due bastardi In questo abbiamo Avuto fortuna A noi E rinvinto Poi ci vuole La logica In questo gioco Capito Ci vuole Tanta Tanta logica Vediamo qua Mazzotruido Vabbè ragazzi Non so Che sto facendo Vabbè Un grazie Spero che Questo video Vi sia piaciuto Questo era Il secondo video Di Airstone Lasciate un bel like Iscrivetevi Al canale E Condividete Il video E Bella ragazzi Ciao